Ciao a tutti ragazzi, oggi vi ho voluto portare questa specie di tutorial su Retro City Rampage Deluxe Mi raccomando ragazzi, se volete acquistarlo basta andare sul Play Store, su PS4, PS Vita, Xbox One, Xbox 360 Sono andato a vedere il prezzo, costa 14€, se è sbagliato me lo dite e ve lo dico giusto Quindi ragazzi, se volete che vi ho voluto nel canale, basta dei commenti e dei like Quindi ragazzi, vi lascio al video, buona visione Salve a tutti la gente, io sono Manzo07 e oggi ragazzi, vi avevo promesso che vi portavo Retro City Rampage E ora vi faccio vedere alcune cose, ragazzi sto sussurrando perché ci sono alcune persone che in questo palazzo dormono Cioè in questo appartamento e che soprattutto gli stanno dormendo e così Quindi vi faccio vedere cos'è Se vi piace, vi lo posso anche portare sul canale, ok? Oh mio Dio, aiuto Tentione Sì Aiuto Ui No Non volevo Ancora Aiuto Un buon buongiorno Un mio Dio No, 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 scappa, scappa Devo tornare un'auto Ok Come vedete ragazzi, possono anche rubare le auto E come GTA Uguale, solo che è sulla pressivita Se volete che ve lo porti E basta solo scrivere un commento, ragazzi Oh mio Dio Ok Siamo fuggiti alla pula Fermati, fermati Ok Ok Facciamo splodere Se Altola la scuola Un idiota Puff 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 Ok Ok Mi Dio Aiuto 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 C'è la pula C'è la pula Tanto dove sta andando? aiuto! ok vediamo un po granata come vedete ragazzi si possono in questa modalità questa qua è la modalità arcade cioè che puoi fare tutto quello che vuoi hai già tutte le armi cioè non tutte le puoi anche andare a comprare e così oh mio dio aiuto aiuto ok no vieni a papà va bene vai 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 c'è brula boom boom quindi ragazzi questo qua in pratica è retro city rampage deluxe Grazie a tutti.